La causa principale. L'alopecia autoimmune è un fenomeno molto strano nella sua natura, i cui meccanismi di sviluppo i medici studiano ancora oggi. Nel suo stato normale il sistema immunitario protegge l'organismo dalla penetrazione dei microorganismi patogeni dall'esterno. Le cellule speciali attaccano to quello che potrebbe minacciare la nostra salute. Al solito queste cellule muoiono nello scontro, tavia l'attacco massiccio porta all'eliminazione di virus e batteri patogeni. A volte malfunzionamento del sistema immunitario, fortunatamente accade raramente. Porta alla situazione quando l'organismo attacca i follicoli piliferi, considerandoli gli elementi ostili. Naturalmente, se non si riesce a fermare questo attacco i capelli non hanno una minima possibilità di sopravvivere. Quindi prima si inizia la terapia, maggiore è la possibilità di salvare almeno quello che resta dalla capigliatura. Sintomi e diagnosi. La cosa più importante è rivolgersi tempestivamente al medico. Spesso i pazienti affetti dall'alopecia perdono troppo tempo cercando di risolvere il problema di perdita dei capelli con rimedi popolari. O con la terapia con le fiale. Quando la causa della calvizia è una malattia autoimmune, e il tempo gioca contro di voi. Quindi, se dopo il primo ciclo completo della terapia con qualsiasi produdot contro la perdita dei capelli la caduta continua, te interrompete immediatamente la sperimentazione e visitate uno specialista. Sintomi principali. Bisogna allarmarsi prima se insieme alla caduta dei capelli ci sono contemporaneamente due o più sintomi seguenti. Forte sudorazione anche coi minimi sforzi fisici o senza motivo, tachicardia e altri disturbi del ritmo cardiaco, salti o frequenti. Aumenti della pressione sanguigna, fragilità e sfaldamento delle unghie, perdita di lucentezza ed elasticità dei capelli, disturbi gastrici. Indigestione, affanno frequente, disfunzioni sistematiche del ciclo mestruale o la sua completa assenza. Molto spesso tali sintomi indicano un malfunzionamento significativo nel sistema ormonale che regola la concordanza fra gli organi interni del corpo. Controllo medico. Per capire meglio le cause dello sviluppo dell'alopecia autoimmune bisogna sottoporsi ad un controllo medico che più spesso incomincia con esame del sangue, esame ematochimico generale e di livello ormonale e ultrasonografia della tiroide per escludere la tiroidite autoimmune, quella malattia più pericolosa che porta alla calvizie. È probabile che avrete bisogno di rivolgervi al tricologo che individuerà la quantità di follicoli piliferi morti, vivi e dormienti e farà previsioni per un possibile ricupero dell'apparato pilifero. Il cardiologo stabilirà se il cuore non si è affetto. Il psicologo spiegherà come affrontare lo stress, anche quello provocato dalla perdita dei capelli. I medici nominano le seguenti cause scatenanti della tiroidite autoimmune predisposizione genetica. Purtroppo questa malattia è ereditaria, malattie infettive croniche della bua e rinofaringe, sinusite, carie, sinusite purulenta, iperattività della ghiandola. Tiroidea, spesso causata da un eccesso di odio, imparo negativo delle condizioni ecologiche, inclusa l'esposizione alle radiazioni. Stress forti e prolungati che portano ai disturbi ormonali. Anche una terapia prescritta e condona correttamente non è sempre in grado di sconfiggere completamente questa malattia. Che cosa provoca la malattia? Tavia la calvizie può essere provocata non solo dalla tiroidite. Ci sono altre malattie che portano alla parziale o completa perdita dei capelli, timorbo di base ed o vtrui raves. Si sviluppa più spesso nelle donne di mezza età e anziane ed è anche associato ai disturbi nel funzionamento della ghiandola tiroidea. La sua caratteristica principale è l'esoftalmo progressivo. Artrite reumatoide. Questa malattia viene provocata da un'infezione, ma a volte potrebbe avere natura autoimmune. In tal caso, con le articolazioni subiscono lesioni e progressivi danni, e di seguito spesso si infiammano e si gonfiano. Diabete mellito, tipo 1. In questo caso, sotto l'attacco del proprio sistema immunitario e il pancreas produce insulina. Lupus eritematoso. Una malattia sistemica, il cui meccanismo di sviluppo non è chiaro. Sul corpo si diffonde l'eruzione cutanea, mentre la malattia colpisce tigli organi interni, cuore, fegato, polmoni. Naturalmente, è impossibile eliminare completamente il problema senza curare la malattia principale. A volte il massimo che si può fare è rallentare in modo significativo la calvizie totale. Tavia non si riesce sempre a salvare la capigliatura. Prognosi della guarigione. Come si vede, in questo caso cavarsela solo con dei rimedi popolari oppure con i prodotti molto moderni contro la caduta dei capelli non ci si riesce. Ma anche questi rimedi non dovrebbero essere scontati, ti inguerra ti i mezzi sono buoni possono dare dei risultati eccellenti come parte della terapia completa e accelerare la crescita di nuovi capelli, se è ancora possibile. Nella terapia delle malattie autoimmuni, sono particolarmente importanti la professionalità del medico e l'approccio individuale complessivo al trattamento. In caso dell'alopecia focale, quando i capelli cadono in zone ben definite, la probabilità di fermare la malattia e recuperare completamente i capelli è più alta rischio alla calvizie totale. Comunque non arrendetevi. Terapia farmacologica Basandosi sui risultati di controlli Il medico prescriverà un corso di terapia farmacologica che probabilmente Includerà corticosteroidi sotto forma di cremo e iniezioni ipodermiche per fermare i processi infiammatori attivi Chiretinoli Farmaci che ricostruiscono il cuoio capelluto della testa Minoxidil E un rimedio efficace per la caduta dei capelli citostatici Farmaci che riducono l'attività del sistema immunitario Zinco Per rafforzare e far crescere i capelli I nuovi agenti irritanti Dell'azione locale per il risveglio dei follicoli piliferi Addormentati E l'attivazione della circolazione sanguigna nel cuoio Capelluto Complessi multivitaminici Con alto contenuto di vitamine di gruppi Attivatori di nuova crescita dei capelli Inoltre, possono essere raccomandati le creme a base di catrame Toi decoli e le tinture delle erbe varie Le maschere per capelli Fai in casa con oli vegetali naturali o essenziali Procedure cosmetiche Procedure cosmetiche scelte correttamente Possono essere di grande aiuto nella lotta contro la calvizie Oggi nella terapia di vari tipi dell'alopecia si usano Massaggio alla testa Mesoterapia Laserterapia Elettrostimolazione Con microcorrenti Toraggi ultravioletti Il corso standard di terapia è di 10-15 sedute 2-3 volte a settimana Con un tale approccio integrale e una terapia iniziata in tempo C'è un'alta probabilità che la perdita di capelli si arresti completamente Lo confermano le recensioni dei numerosi pazienti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti